una cosa che Valentina ci ha concesso è di superare poi il momento del radicamento guidato e affidarci un momento di radicamento forse anche più autonomo perché ha lasciato molto spazio anche al silenzio giusto avete percepito come cambiano sono tipo montagne russe certo punto ti ritrovi in uno stadio dove ci sei solo tu fino a pochi metri prima eri accompagnato e però ti senti comunque accompagnato ma sei solo sola ecco lì comincia il radicamento vero lì comincia il vero radicamento quindi il radicamento guidato teoricamente poteva essere anche tra virgolette un po' più corto ma proprio perché dobbiamo cominciare perché se no è stato perfetto come tempo e tutto però in più ci ha aperto la finestra al vero e proprio radicamento che consiste nell'ingresso in me stesso non attraverso la guida ma autonomamente il silenzio ci consente questa cosa o tra virgolette la solitudine è più facile penetrare il radicamento essendo guidati l'avete sperimentata questa cosa immagino la vostra vita o no giusto anche per questo io stimolo poi le persone soprattutto in percorsi di questo tipo ad avere a sentire la 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 libertà il desiderio di guidare io amo essere guidato tocca essere da guida quasi sempre che se anche una scusa per farmi guidare ogni tanto per ora diventa molto utile aprirvi a questa possibilità di essere da guida ogni guida poi diversa ogni guida si uno ci può piacere di meno di più ma non è questione di piacere questioni di frequenze quindi ogni guida poi ha qualcosa di più di nuovo da fare vedere di te stesso sempre non di chi sta guidando quindi vanno benissimo le guide anche quando apparentemente non sono proprio adatte poi nel gruppo di lavoro come il nostro questo è un gruppo diciamo è un uno spazio protetto riservato un laboratorio questo laboratorio quindi la curiosità le domande la sperimentazione la messa in gioco consideratela costante piano piano alzeremo questo questa possibilità e a proposito del silenzio noi faremo un percorso dove io ancora non neanche idea di quello che verrà fuori perché c'è solo che c'è un universo da dire fuori ma saranno molte molte pratiche meditative ipnotiche viaggi sottili eccetera molto spesso ma non sempre guidati quando c'è una guida vuol dire che c'è pure un indirizzo cioè vuol dire pure c'è quasi una destinazione c'è una finalità alla meditazione vero la capite no questa cosa anche adesso meditazione per il radicamento medicazione della percezione corporea meditazioni per le percezioni sottili poi piano piano andremo immaginazione visualizzazione proiezioni tutto 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 ci possono fare tante meditazioni per sperimentare ed è sono qui per questo è importantissimo saperle fare ma la vera meditazione non è questa che la vera meditazione non ha finalità non ha finalità è proprio quel vuoto che tu senti morbido quando la guida ti lascia come ha fatto valentino ci ha lasciati lì comincia la meditazione quindi dobbiamo essere coscienti e consapevoli di questa cosa qui faremo meditazioni molto particolari molto ricche ma non sono quelle le meditazioni le meditazioni pure sono quelle che si attivano per il semplice motivo di meditare non per guarire non per rilassarmi non per dormire meglio stanotte non per scoprire che che cosa c'ho dentro non per fare un lavoro di trasmutazione non per imparare a fare visualizzare tutto quello che faremo è proprio ideutico alla quell'abbandono quando noi saremo liberi di abbandonarci noi stessi la nostra interiorità però avremo degli strumenti di percezione di 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 comprensione di quello che viviamo ecco perché stiamo facendo questo ma la vera meditazione proprio deve essere quotidiana che prescinde dall'azione prescinde dal momento è un non tempo che quindi non ha finalità questa è la vera meditazione quando noi impariamo a meditare senza finalità vuol dire che abbiamo finalmente imparato a meditare abbiamo capito quasi la meditazione quindi abbiamo già ricapitolato molto velocemente abbiamo parlato di radicamento prima tecnica tra virgolette per imparare a dedicare la nostra attenzione sempre distratta dall'esterno a portare attenzione all'interno il l'escamotaggio più semplice è quello di rivolgere l'attenzione al corpo e quindi entrare con lo sguardo nel corpo prendere contatto con le varie parti del corpo respiro e tutto quando poi a questa attenzione aggiungi l'attenzione percettiva c'è cosa cosa stai sentendo da quello che arriva da quello che stai attenzionando abbiamo visto l'altra volta no porta la tua attenzione la tua diciamo la tua coscienza nella coscia sinistra sentila da dentro vedi come se da dentro il momento in cui tu porti la tua attenzione nella coscia sinistra io ti dico senti da dentro da lì scatta può scattare il momento percettivo cioè che cosa percepisco che c'è nella mia coscia sento calore gonfiore tensione non lo so qualunque cosa tremori oppure rilassatezza forza non lo so possono arrivare tante cose percezione corporea la percezione corporea non è che ce ne usciamo così la concludiamo percezione corporea e magica senso che è un canale anche questo senza fine penso che noi possiamo attraverso processi meditativi attraverso la percezione corporea mettere in equilibrio organi ghiandole rimettere a posto tanti aspetti del corpo e anche delle nostre emozioni attraverso il corpo quindi non è che ce ne laviamo le mani così però passiamo subito ad un altro capitolo quindi le percezioni sensoriali il corpo è una delle persone senza percezioni sensoriali l'ho voluta staccare perché è il primo step più importante passare sempre dal corpo per poter uscire dal corpo noi dobbiamo entrare totalmente nel corpo non so se chiara i soliti paradossi e per uscire diciamo per uscirne volontariamente diciamo consapevolmente in realtà bisogna avere un grande un grande connubio col corpo percezioni sensoriali facciamo un passettino in avanti quando noi entriamo nella nostra interiorità abbiamo detto che ci sono io dico infiniti linguaggi perché davvero sono infiniti poi la mente noi per diciamo limitatezza degli strumenti comunicativi non abbiamo magari le parole giuste neanche per riconoscerli questi mondi questi linguaggi ci possiamo in qualche modo capire tra di noi se rimaniamo negli standard linguaggi visivi linguaggi uditivi no linguaggi gustativi olfattivi o tattili giusto se io dico così sono linguaggi che voi capite quindi l'attenzione al corpo vedete che la mente voi non fate così non è che vi toccate quindi non è tattile è sempre sottile cioè io sto fermo però entro nel corpo e da quella postazione percepisco anche sensazioni tattili per carità sento come ci invitava lei il peso del corpo una sensazione tattile ma attenzione perché può nascere anche può fermentare da questa attenzione al corpo qualche informazione di altri linguaggi che deve essere intercettata se vogliamo in qualche modo farne tesoro e può essere prodotta in forma di linguaggio visivo perfino cioè io sto nella mia attenzione della coscia sinistra sto dal di dentro sto così ormai sono così libero diciamo nella mia i miei atti meditativi i miei momenti meditativi da entrare in connessione subito con mia coscia sinistra che magari comincio a conoscere anche bene nel tempo e quindi non mi da sempre stesse informazioni mi dà varie informazioni e sono più capace magari di intercettare un'informazione visiva c'è un qualcosa un'informazione che diventa visiva per me magari per te per un altro potrebbe diventare addirittura uditiva o una seconda sensazione tattile o perché no anche gustativa olfattiva ci sono anche queste sono profondissime e adesso mi viene in mente faremo poi delle pratiche anche di percezione olfattiva e gustativa perché non si fa tranquillamente lo facciamo insieme adesso dopo per verificare effettivamente che cosa accade noi la mente il corpo percepiti percepiamo delle informazioni sotto questi linguaggi ora se io faccio così come ho fatto un'altra volta sto mettendo un suono se non abbiamo problemi di udito fisico tutti quanti voi avete sentito un suono ok io sono qui tu sei lì 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 tutti quanti noi se non abbiamo problemi di vista ci stiamo vedendo ci stiamo ascoltando magari se ci avviciniamo cominciamo a sentire anche l'odore poi toccandoci spiorandoci arrivano tante altre informazioni quindi c'è facile comprensione per noi di delle informazioni sensoriali giusto poi c'è chi c'ha ci sono i sommelier per esempio ci sanno riconoscere vari tipi di acque di oli di vini ci sono i degustatori è chiaro che poi noi magari abbiamo un certo livello di capacità di distinguere il colore il suono ci sono mia figlia c'ha l'orecchio assoluto riconosce le note basta fare un suono e ti riconosce qualsiasi nota nota io per me è arabo no quindi non possiamo dire che sentiamo tutti le stesse cose vediamo tutte le stesse cose però per o male ci intendiamo eppure sappiate che già questi cinque sensi appartenenti alla sfera sensoriale perché poi ci sono quelli extrasensoriali di cui parleremo andando avanti sono sono mondi che si creano se io con i miei cinque sensi vedo sento saggio e comprendo cose diverse da te da te da te io mi costruisco un mondo diverso quindi già così noi siamo in mondi diversi esattamente come nel piccolo principe ogni personaggio c'ha il suo mondo esattamente così quando noi entriamo nell'interiorità seppure volessimo utilizzare e utilizzeremo i cinque sensi tradizionali per andarli a scovare interiormente noi avremmo propensioni differenti chi ha il canale visivo chi ha il canale uditivo no chi ha il canale intuitivo eccetera eccetera ma anche sensibilità quindi come cosa intensità maggiore per captare quel segnale ma saremo comunque tutti diversi io posso mentre io qui faccio così vi arriva all'orecchio se io dovessi darvi una parola stimolo e non lo faccio qualcuno di voi potrebbe avere una frequenza in abbassamento un altro in alzamento il che produrrebbe sensazioni magari fisiche in qualcuno e in qualcun altro invece magari visive un'immagine no cioè quando io lancio un'informazione quello che succede dentro di voi è diverso è differente si aprono immaginari ricordi proiezioni verso il futuro immagini suoni possono arrivarci pure pugni nello stomaco quando uno dice una parola giusto o no quindi il canale i canali e i linguaggi sono veramente un mistero nel senso che non dobbiamo pensare che ci debbano dare determinate informazioni no perché ognuno ha le sue propensioni e la sua capacità di aumentare la sensibilità o meno di ricevere certe informazioni e quindi i mondi che appaiono di fronte allo stesso stimolo sono differenti dobbiamo comprenderci su questo così noi facciamo i nostri viaggi nel sottile senza stare attaccati alle idee che ti sono venute in mente sentendo la testimonianza di quello di quell'altro di quell'altro che diceva che ha visto ha sentito gli è successo li ha fatto fanno tutto e bene ste condivisioni ma non le fare tue tu fai quel vuoto e ricomincia da zero e cerca il tuo linguaggio devi capire se si sta iniziando a formare un canale visivo che comunque è fondamentale ve lo dico è fondamentale perché noi dobbiamo qua in questa questo percorso noi sul fatto della del canale visivo ci dobbiamo lavorare per forza mi spiegherò poi ci arriveremo non troppo tardi tra qualche settimana già a parlarne perché il saper stare nel canale visivo sia in fase di ricezione sia in fase di programmazione di proiezione di progettazione del sottile è fondamentale saper visualizzare immaginare scopriremo le differenze tra queste due parole altre parole chiave quindi la capacità di vedere a occhi chiusi ci deve appartenere poi qualcuno di noi può essere più molto più evoluto qualcuno molto più lento ma questo non fa differenza di consapevolezza perché poi ci sono tanti altri strumenti per captare le informazioni del sottile che arrivano in vari linguaggi non solo attraverso questi cinque sensi come vi ho detto categoria di sensi collegati al corpo e categorie di sensi simili a quelli del corpo ma che viaggiano nel sottile quindi come si formano le immagini nella mia interiorità come capto i suoni questo non richiede diciamo una un'impostazione molto rigida da parte mia io ti pongo la domanda perché ti si apra la possibilità di cercare tu la risposta perché ognuno di noi ha una propria modulazione di frequenza che apre quella porta lì e quindi si tratta di stare in quel silenzio lì in quel travaglio lì perché il silenzio non so voi me l'effetto che fa ormai è veramente sempre sempre morbido anche perché ma perché se io di fianco a me ce l'ho sempre c'è una parte che che palpita che pullola che spinge che magari c'ha delle tensioni no o delle rabbie non è che non ce l'ho io ce l'ho ma sta al mio fianco quindi è una delle tante cose che posso osservare ok quindi oggi abbiamo accennato al concetto di canali e linguaggi però dobbiamo aggiungere e li sperimenteremo perché io non ho detto nulla dei canali canali sottili vedremo la prossima volta canali sensoriali di vista udito adesso faremo dei giochi per cominciare a comprendere come cambia il nostro stato di percezione e per imparare a starci magari in quella condizione per aprirsi un il canale visivo un cinema personale senza problemi di dire ma quando c'è lo spettacolo che è venuto l'amico mio che non stiamo facendo tardi te ne deve fregare niente sei l'unico spettatore sei l'unico produttore l'unico registro l'unico attore c'è l'unico ti metti la cioè sei l'unico schermo che quello sei prevalentemente se lo schermo stai lì ma non ce ne avete uno qui c'è uno lì tutto bianco questo è perfetto io porto le mie attenzioni e lì arriva che cosa arriva arriva si manifestano e si proiettano i pensieri le paure le bollette le cose da fare le cose belle le gioie ricordi le distrazioni non è un problema bianco e torno mia mi alleno a vedere che cosa man mano esce purisco e riparto riparto e mi lascio e in qualche modo raggiungere dai messaggi inizialmente non per tutti e il canale visivo è confuso sono luci anzi generalmente questo dice non vedo niente guarda guarda stropiccia gli occhi e vedi che già vedi diverso tu basta che fai così e quanta roba vedete o no ecco quindi andare a intercettare sapete com'è un po come quando vogliamo mettere a fuoco qualcosa no devi spostare la distanza dell'obiettivo insomma dove deve andare a colpire è un po cercare questo perché inizialmente sono lui prima non vedi niente magari poi c'è ma ho visto un arancione ma era arancione sei sicuro che ci sono colori lì non so sì vabbè ok arancione ci stiamo più o meno capendo no andava da destra a sinistra ma era da destra era da sotto beh non è importante vedi un po questi poi piano piano in mezzo a questa roba qui incominciano a manifestarsi diciamo forme simboliche come può essere un uomo una donna un albero un conoscente una mamma chiunque può apparire no o altri soggetti sempre simbolici attenzione poi parleremo il simbolismo nella nei campi visivi sottili e quindi si comincia a costruire un po una trama più vicina alla simbologia a cui sono abituato perché quelle luci che sono energie quelle sono poi non sono come le vedi esattamente tu però è più vicino quello quella è la vera origine l'essenza che c'è poi noi abbiamo bisogno però di un tramite tra l'energia e noi che siamo abbiamo bisogno un po delle forme degli simboli quindi siamo noi stessi che decodifichiamo quelle quelle forme quelle luci quei movimenti di luce in forme proprio il tuo cervello che lo fa supportato determinate forze esoteriche questo è chiaro però incominciano a costruirsi quindi dei profili di forme che tu puoi riconoscere che a questo punto diventa più semplice per te decodificare quello che hai osservato dentro di te la stessa cosa ma non mi voglio dilungare e con i suoni per chi li sente nella testa lì il discorso delicato e che ci sono dei suoni interiori che non intercettiamo tipo le voci o i rumors delle emozioni creano molto molto sono frequenze che poi il corpo suona anche se non non ce lo sentiamo non lo sentiamo da noi però vibra per i pensieri quindi produce anche informazioni uditive su frequenze che però non captiamo in meditazione possiamo captare possono arrivare addirittura come suoni oppure il suono diventa un'informazione visiva questo non lo possiamo dire perché poi dipende pure dai canali no altra cosa che vi può arrivare vi dico queste due ma qua già ci avviciniamo all'extrasensoriale diciamo che siamo un po a cavallo tra il sensoriale e l'extrasensoriale però io ricordo quello di ricordo penso che ve l'ho già parlato e cammineremo spesso caro degli esempi ricordando anche questa mia amica vincenza con cui avevamo facevamo un percorso di come posso dire come qualifica comunque una coppia spirituale questo è poco ma sicuro non certo una coppia è una mia sorella giovanissima 27 anni è morta 27 anni cinque anni fa vincenza si chiama così ve la nomino lei quando noi comunicava facevamo determinati giochi magari uno di questi facciamo pure adesso diceva che quando c'ero io di fronte a lei e non le succedeva con altri lei perché io per esempio mi mettevo di fronte a lei dice allora leggimi ok che poi il leggimi è un leggiti cioè stando di fronte a me vedi come stai tu facevamo reciprocamente questo e tanti altri giochi no ed effettivamente lei mi leggeva nel vero senso della parola cioè succedeva solo a con me questa cosa forse perché io sono un uomo di parola nel senso che scrivo parlo non lo so però diceva che tutto quello che io dovevo dire a lei telepaticamente attraverso insomma la comunicazione sottile gli compariva con parole tipo insegne grandi intorno alla mia testa così parolone vedeva quindi vedeva visivo canale visivo e certe volte anche uditivo le sentiva pronunciare ma prevalentemente le vedeva tipo così ma non è una regola per dirvi lasciate che siate voi a scoprire perché abbiamo bisogno di infinite scoperte non ci sono 45 canali quindi libertà tranquillità se non ci se non riusciamo a tenere bianco quel telo non ti preoccupare cancella cancella che poi non è esatto dire cancellare no sapete come chi mi segue sa che non è che bisogna cancellare pensieri cancellare l'emozione esatto contrario no non fare parte del quadro diciamo che si devono assorbire per tornare tornare bianco mia osservazione deve portare di nuovo al bianco non è che cancello però inizialmente quando non sono capace di fare questo io subisco la pressione di pensieri emozioni che mi distraggono con pazienza fiducia tranquillità appena mi accorgo che il pensiero mi ha portato lontano dal mio gioco del silenzio e quindi dal gioco delle percezioni sottili bene io lì con un sorriso verso di me non con un giudizio che non ce l'ho fatta mescola con un sorriso con tranquillità torno verso di me torno verso di me torno verso di me sempre fino alla fine non abbiamo altro da fare ci sono elastici che ci portano fuori noi costruiamo un elastico a quanto oggi e domani che quando ci portano fuori noi sappiamo tornare dentro con tranquillità quest'idea di pensare di stare sempre dentro da folli non si può fare quest'idea di essere sempre presenti non si può fare non si deve fare non si può fare un fatto economico noi come macchina abbiamo bisogno di metterci in stand by in automatico e fare robot economicamente la nostra energia sarebbe dissipata se fossimo presenti a fare tutto quello che facciamo no 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 così quando abbiamo imparato a guidare la macchina non devi essere presente a mettere la prima la seconda la terza cazzo devi essere presente a guardare la strada intorno ma non la frizione queste robe meccaniche perché la macchina ormai le assorbite e anzi se ci fa attenzione sbagli avete notato sta cosa quella si chiama conoscenza tecnologica la dobbiamo andare lasciare da sola non devo essere presente a quella roba lì devo saper distinguere ci sono momenti in cui la macchina deve andare via certo non mi metto in automatico se devo parlare adesso se devo parlare con mia figlia con la mia compagna di cose magari importanti con o con altre altre persone io generalmente cerco di essere presente sempre però ci sono dei dialoghi più importanti giusto lì cerco la mia presenza io non devo andare in automatico quindi non pensiamo che si impara a stare in meditazione a meditare tutto il tempo che è una cosa che che venga uno a dirmi che l'ha fatto mai davvero gli faccio vedere davanti ai suoi occhi probabilmente se dice così non l'ha fatto manco per un secondo la meditazione vera perché noi entriamo usciamo da queste dimensioni è la stessa cosa non dobbiamo attaccarci alle narrazioni altrui io ho fatto questo io ho visto quello a me succede questo lascia perdere fatti il tuo mondo adesso prima che poi fatti il tuo mondo stabilisci le tue connessioni vedi con curiosità amore quelle che sono i linguaggi che ti arrivano comincia a stabilire una relazione vedi un po piano piano se si schiariscono non avere fretta questa è non è è veramente una strada infinita questa quindi che cosa stiamo andando a cercare di che si proietti subito sull'immagine tutto quello che ci risolve la vita no non è questa la meditazione la vita è risolta già adesso nel qui ed ora perché perché sto meditando non perché le informazioni che mi arrivano alla meditazione mi cambiano la vita avete capito questa cosa la differenza il il guadagno tra virgolette come atto meditativo la postura non è che io sto qui perché il dopo meditazione mi farà stare meglio no qui adesso il risultato della meditazione mentre la faccio questo è il mio è il mio modo non devo stare con la testa devo farlo bene perché mo che finisce la meditazione così avrò ottenuto devo cercare non cercare parola sbagliatissima devo creare pace interiore poi vi dirò perché la pace interiore è un'emozione superiore che non è un'emozione inferiore le emozioni inferiori sono automatici le emozioni superiori sono volontarie quindi non è si deve cercare la pace si deve creare la calma non si cerca si crea la beatitudine non si cerca si crea l'amore quello incondizionato non si cerca non si trova si crea la gratitudine non è una risposta a qualcosa di bello è un sentimento che crei gratis tu quando vuoi la gioia che non è la parola giusta in italiano non è è più letizia che una parola che non si usa più che qualcosa di diverso dalla beatitudine però vabbè gioia felicità letizia chiamate come volete non va cercata ma creata vi sto accennando delle cose molto importanti che non tratteremo qua nel percorso sarà pane diciamo quello che faremo qualcuno di voi ha partecipato a webinar quindi sa di che sto parlando sarà pane su sostanziale diciamo di quello che faremo ma anche in questo percorso dobbiamo comprendere queste 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 cose allora adesso sospendiamo e facciamo anche pratica ok ciao 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 ciao